Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera, nuova edizione del nostro TG, iniziamo dai titoli. La mamma del piccolo Cocò in lacrime, dopo la lettura della sentenza in tribunale a Cosenza, giustizia è fatta, ha detto, condannati all'ergastolo Fossino, Cantilongo e Cosimo Donato, accusati dell'omicidio del bambino, del nonno e della compagna marocchina. Arrestato dai finanzieri a Monte Giordano, il Corriere della Droga beva 150 kg di marijuana e asci, la Guardia di Finanza lo ha bloccato sulla 106, determinante il fiuto di un cane antidroga. Una pattuglia della polizia stradale ferma per prestare soccorso ad un'automobilista che aveva appena avuto un incidente è stata travolta nei pressi di Sibari, sulla A2 del Mediterraneo. Gli agenti erano fuori dalla vettura, sono rimasti in lesi. A Via Cosenza, il forum del turismo promosso dall'amministrazione comunale, gli esperti internazionali rivelano l'efficacia delle leggende per attrarre i visitatori. Una voragine di circa due metri si è aperta in via Buccarelli a Catanzaro, nei pressi del liceo classico, disagio alla viabilità, nessun ferito. A Taurianova c'è un quartiere in cui risiedono 10 famiglie che è praticamente isolato, la protesta dei residenti. L'esercito dei volontari ospedalieri, circa 800 in un solo anno a Cosenza e il CSV, pensiamo agli stati generali del volontariato. Ancora buonasera dalla redazione del TGT, dunque in apertura torniamo ad occuparci della sentenza della Corte d'Assise di Cosenza che ha inflitto l'ergastolo a Cosimo Donato e Faustino Campilongo per la strage di Cassano in cui ricorderete fu ucciso un bambino di tre anni, il piccolo Cocò, la mamma del bambino in aula, ha detto giustizia, è stata fatta. Il medico legale disse ai cronisti di non avere mai visto un orrore simile nella sua lunga esperienza ispezionando i luoghi, gli scenari si chiamano in gergo dei delitti, ma in contrada Fiego a Cassano Ionio in quella domenica mattina di 5 anni fa, era il 16 gennaio del 2014, un brivido ha attraversato anche gli uomini delle forze dell'ordine. Nella Fiat Punto incendiata, i cadaveri, meglio quel che restava dentro, i corpi di un uomo, una donna e un bambino, ucciso come un boss a soli tre anni. Anche per lui esplosi i colpi di una pistola 7,65, anche lui dato alle fiamme. Cocò Campolongo era con il nonno, Giuseppe Iannicelli, era lui l'obiettivo dei killer e con la fidanzata di quest'ultimo, una ragazza tunisina, la zia Betty, così la chiamava Cocò, Ibsam Tuss. Per i tre non c'è stato scampo. Giustizia è fatta, ha urlato ieri la mamma del bambino in aula, in corte d'assisi a Cosenza, dopo la condanna all'ergastolo per Paustino Campilongo, 42 anni, e Cosimo Donato, 41, accusati dell'efferato omicidio. Per i due è stato inoltre disposto l'isolamento diurno per sei mesi. La condanna al carcere a vita per i due imputati era stachiesta dal procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto. Movente della strage, secondo l'accusa, la volontà di non sottostare più agli ordini di Iannicelli nell'attività di spaccio. Nel corso del dibattimento è emerso che per i due imputati l'omicidio di Iannicelli era considerato come una sorta di prova di battesimo per fare il salto di qualità nella criminalità organizzata. Anche Papa Francesco parlò del piccolo Cocò, di quegli occhi che si affacciavano al mondo, programmando un viaggio realizzato in Calabria in cui ha scomunicato i mafiosi. Arrestato dai finanzieri a Monte Giordano un corriere della droga, aveva 150 chili di marijuana e asce, la guardia di finanza lo ha bloccato sulla 106, determinante il fiuto di un cane antidroga. È stato il fiuto del cane antidroga Cicquanto a far scoprire ai finanzieri della tenenza di Monte Giordano un corriere della droga che trasportava oltre 150 chili di marijuana e hashish. A fare insospettire le fiamme gialle nel corso di un controllo stradale sulla statale 106 nei pressi di Roseto Capospulico, il nervosismo mostrato dal 32enne che era alla guida di un autocarro che durante la perquisizione è apparso timoroso e restio soprattutto alla vista delle unità cinofile impiegate nel corso dei controlli al posto di blocco. E proprio l'intuito dell'animale a quattro zampe si è rivelato preziosissimo. Nascosta nel cassone dell'autocarro in un capiente doppio fondo, congegnato appositamente, i finanzieri hanno scovato lo stupefacente, coperto con liste di legno e chiuso in sacchetti di cellofan per cercare di eludere i controlli. I militari, oltre alla sostanza stupefacente, il cui valore è stato stimato in circa un milione di euro, hanno anche sequestrato tre telefoni cellulari, dieci banconoti da 50 euro l'una e il mezzo utilizzato per il trasporto della droga. L'uomo, un cittadino albanese considerato il corriere di droga, è stato portato in carcere. Sequestrati dalla Guardia di Finanza Beni per un milione e 300 mila euro, due docenti dell'Ateneo di Catanzaro, la misura disposta dalla Corte dei Conti per attività extraprofessionali illegittime. Il danno per lo Stato supera il milione di euro. Due docenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro sono finiti nei guai per aver svolto attività extraprofessionali illegittime, aver assunto, cioè, incarichi incompatibili con lo status di docente universitario a tempo pieno. Dalle verifiche effettuate dai finanzieri del gruppo del Comando Provinciale di Catanzaro è emerso che i docenti erogavano prestazioni tipiche dell'attività libero-professionale, ossia visite, refertazioni su esami di laboratorio, in alcuni casi utilizzando gli studi privati dei due professori a cui sono stati sequestrati i beni per un milione e 300 mila euro. L'importo costituisce il danno erariale che il sostituto procuratore regionale Davide Vitale contesta ai due docenti in base agli stipendi indebitamente percepiti in sei anni dal 2012 al 2018 e alle somme riscosse attraverso quelle che gli inquirenti definiscono attività illecite. Secondo l'accusa inoltre i due professori, al fine di sottrarsi al divieto dei lavori fuori dall'ambito professionale consentito, avevano qualificato gli incarichi incompatibili come generiche consulenze, sfruttando senza averne diritto la legge Gielmini. Svolta sulla sparatoria del 9 gennaio scorso a Crotone nel popolare quartiere di Fondo Gesù, la polizia ha arrestato due persone di 36 e 31 anni con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza e gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, a raccogliere elementi utili per ricostruire la genesi dell'attentato e identificare i presunti responsabili. Domani in quest'ora saranno resi noti i dettagli di questa operazione. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri centosecondi. Un'auto ha trovolto una pattuglia della polizia stradale nelle vicinanze di Sibari sulla 2 del Mediterraneo. I viaggianti erano fuori dalla vettura e sono rimasti illesi. La pattuglia era ferma al lato della strada per prestare soccorsa ad un'autopobilista vittima di un incidente quando è stata colpita da una Citroen C8. Il conducente è rimasto ferito gravemente. Sul posto è intervenuta anche l'eliammulanza del 118. Una voragine di circa 2 metri di diametro si è aperta in via Buccarelli a Catanzaro nelle vicinanze degli uffici Enel e del liceo classico. Una vettura in transito al momento del cedimento ha riportato danni alla ruota anteriore ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, creati disagi alla viabilità cittadina. Scoperto e denunciato un evasore totale che dal 2014 ha occultato al fisco più di 200 mila euro, evadendo circa 125 mila euro. A individuarlo i finanziari della compagnia di Paola che hanno smascherato una società fantasma operante nella provincia di Cosenze con un ufficio anche a Roma, attiva nel settore della fabbricazione di acqua minerale e bevande analcoliche. L'amministratore del legale rappresentante della società è stato denunciato per occultamento o distruzione di documenti contabili. I carabinieri di Maria Rato insieme a persone del Dipartimento Prevenzione dell'Ascola di Vibo hanno eseguito dei controlli per la tutela ambientale in una letta di raccolta differenziato operante nel capoluogo riscontrate precarie condizioni genico-sanitarie nonché l'assenza dei requisiti previsti in materia di sicurezza sul lavoro. La titolare è stata denunciata e sanzionata per 10 mila euro. I carabinieri di Pizzo invece hanno controllato un cantiere edile riscontrando la presenza di due operai irregolari. L'imprenditore è stato denunciato e sanzionato per 20 mila euro con la sospensione dell'attività. La politica adesso con la conferenza stampa convocata a Palazzo Campanella da sette consiglieri regionali del centrodestra che chiedono le dimissioni del governatore Oliverio. Ecco i consiglieri regionali che chiedono un passo indietro al governatore Oliverio. Una parte dell'opposizione in consiglio ha convocato una conferenza stampa urgente a Palazzo Campanella per esprimere le proprie preoccupazioni sulla situazione che si registra alla regione. Al tavolo Claudio Parente, Domenico Tallini, Alessandro Nicolò, Gianluca Gallo, Fausto Orsomarso e Giuseppe Pedà. In conferenza stampa nel mirino soprattutto la sanità. Per Claudio Parente la sfida messa in atto dal presidente della giunta regionale contro il governo e la nuova gestione commissariale della sanità con la nomina dei direttori generali fa partire nel peggiore dei modi questo nuovo rapporto tra le parti. Di una regione ancora bloccata parla Fausto Orsomarso che lancia un grido d'allarme legato anche all'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore di Oliverio. La Calabria, dice Orsomarso, non può più permettersi di continuare sotto il governo di un uomo solo al comando. Gianluca Gallo ha invece sostenuto che sulla sanità il governatore ha fallito fortemente con i numeri del debito che sono esondati e che vanno imputati a carico e a danno dei tanti direttori generali che non avevano titoli per essere nominati e nuovamente confermati da San Giovanni in Fiore. Alessandro Nicolò ha ricordato la richiesta di dimissioni di Oliverio avanzata già nei mesi scorsi per fallimento politico e adesso non esclude l'ipotesi di una mozione di sfiducia. Valuteremo l'ipotesi, dice Nicolò, mentre Domenico Tallini auspica la possibilità di chiudere l'attuale legislatura. In sette dunque tutti compatti nel chiedere le dimissioni di Oliverio per tornare alle urne già il prossimo 26 maggio. Mancano però gli ex NCD e i moderati, non ci sono quindi numeri al momento per mandare a caso Oliverio. Al via a Cosenza il forum del turismo promosso dall'amministrazione comunale, gli esperti internazionali rivelano l'efficacia delle leggende per attrarre i visitatori. Due intere giornate dedicate all'esplorazione delle strategie e delle politiche per il turismo e questo il senso del secondo forum turismo Città di Cosenza, organizzato dall'assessorato al turismo e marketing territoriale che ospita esperti del settore e giornalisti di fama internazionale. La volontà è quella di non solo far conoscere tutte le strategie messe in atto dall'amministrazione occhiuto dalla città di Cosenza ma soprattutto puntare su un'attività importante in termini turistici attraverso la presentazione di un piano strategico, un'attività che è già iniziata in termini di promozione e di valorizzazione delle nostre eccellenze ma un piano che proseguirà attraverso un'interfaccia importante con tutti gli operatori, gli stakeholders del territorio perché il turismo si fa anche con i cittadini e con tutti gli operatori coinvolti. Valorizzare le risorse esistenti e attorno ad esse creare percorsi culturali e progetti turistici è quello che ha fatto la città di Cosenza negli ultimi sette anni. In questi anni abbiamo valorizzato molto i nostri beni culturali, le nostre risorse importanti come il fiume, abbiamo puntato a nuovi progetti contemporanei come il ponte, il planetario, le nuove piazze, abbiamo puntato a valorizzare anche la città contemporanea attraverso luoghi di pedonalizzazione, di stare insieme. Quindi credo che la città di Cosenza oggi sia una meta che può diventare ancora più attrattiva per il futuro e può offrire nuove opportunità di lavoro e di occupazione anche per chi si occupa di questo settore e anche per molti giovani. Tra gli interventi particolarmente significativo quello di Josef Ejark che ha sottolineato tra l'altro come i mercati turistici internazionali siano particolarmente sensibili anche a miti e leggende. Quello che sta andando alla grande nel mercato turisticico internazionale è tutto quello legato ai miti, le leggende, le storytelling eccetera. Abbiamo la fortuna che alla Ricco c'è stato, c'è passato, è morto, non è morto, non importa ma questo richiama l'attenzione e pertanto dobbiamo di fare diciamo da un mito un prodotto turistico, organizzarci e andare sul mercato su questo. Il programma del forum prevede anche visite guidate in città e nell'Interland. Ci spostiamo a Vibo per parlare del rilancio della città attraverso i progetti del neopresidente della Camera di Commercio. Ad appena una settimana del suo insediamento il nuovo presidente della Camera di Commercio di Vibo Valencia, Sebastiano Caffo, detta la linea individuando le priorità e la direzione in cui intende indirizzare l'ente durante il suo mandato. Io sono qua solo da una settimana come presidente anche se facevo parte del consiglio degli ultimi anni e purtroppo c'è da dire che questa Camera di Commercio è tra quelle che secondo un decreto del precedente governo dovrebbe essere accorpata a Camera di Commercio più grandi e io dico questo è un errore perché è uno degli ultimi baluardi rimasti in questi territori di periferia e che può dare il contributo proprio per un rilancio economico. A tal fine nei prossimi giorni inizieremo gli incontri prima con l'associazione di categoria poi con i sindacati a seguire anche con altri attori del territorio proprio per cercare tutti insieme di creare un pool, un gruppo di lavoro per andare tutti nella stessa direzione e cercando con ottimismo di risalire la china di non essere più all'ultimo posto ma di poter dare all'esterno quello che veramente è la forza di questa provincia che è ricca di località turistiche tra le più rinomate non solo in Italia ma a livello internazionale se io penso a Tropea o a Capovaticano i tedeschi la conoscono forse più dei milanesi quindi noi abbiamo delle potenzialità che potrebbero essere rilanciate in maniera molto importante così come anche i prodotti tipici del territorio che noi come Camera di Commercio da sempre sosteniamo e proprio in questi giorni il pecorino del poro che è diventato ormai da qualche mese un prodotto DOP abbiamo avuto la notifica che la Camera di Commercio e l'organismo deputato a fare i controlli sulle aziende e quindi ci siamo attrezzati per fare convenzioni con dei laboratori di analisi per poterli certificare e quindi invito gli imprenditori di questo settore ad attrezzarsi in maniera tale da essere conformi al disciplinare che è disponibile e già operativo in maniera tale da poter sfruttare al meglio questa DOP che si aggiunge alle altre nostre già tipicità del territorio io ho l'anduia, la cipolla di Tropea e così via a Taurianova c'è un quartiere in cui risiedono 10 famiglie che è praticamente isolato siamo a Taurianova e in questo lembo di terra di prerogativa del comune i cittadini si sentono abbandonati da tutti sono oltre 10 le famiglie che vivono lungo questa via la strada non esiste più, è un percorso ad ostacoli le immagini sono evidenti i canali di scolo, manco a dirlo l'illuminazione è un lusso, il servizio idrico ormai è sul fai da te ogni famiglia ha un pozzo artesiano dove attingere l'acqua le persone vedendo questo schifo di strada praticamente abbandonano i cani qui al bordo di questa strada i cani vengono uccisi perché ognuno si guarda la buca e non vede il cane è una serie di cose proprio con un canile che c'è bello, grande e spazioso ci ritroviamo anche ad avere dei cani che saltano i cancelli ci prendono le scarpe, i tappeti e se li portano via sul banco degli imputati non solo il comune di Taurianova che da decenni si è dimenticata di questa gente che paga regolarmente i tributi comunali ma anche il consorzio di bonifica di Rosarno che ha competenza per alcuni aspetti come la pulizia degli argini di un torrente e della strada il disagio oramai si traduce in disperazione e rabbia i solleciti sono stati fatti a chi di competenza ma come capita in questi casi sono finiti nel nulla ora è il tempo della protesta siamo disagiati, non passano i pulmini, non passa l'acqua dobbiamo disboscare noi per poter passare con la macchina fuoriamo gomme ogni 5 minuti se dovrebbe arrivare un'ambulanza non arriva perché è impossibile per commentare la strada noi paghiamo le tasse vorremmo sapere i nostri soldi dove vanno e per favore qualcuno che si degni di mettere due luci di sistemare la strada per bene come comanda perché siamo esseri umani, non siamo animali Presentato il calendario dell'Avo 2019 a Cosenza l'occasione per fare il punto sul volontariato ospedaliero in città Il calendario solidale realizzato con gli scatti d'autore di Ottavio Marino è l'occasione per la festa che poi è un incontro dei volontari dell'Avo l'associazione volontari ospedalieri nella sala quintieri del teatro Rendano di Cosenza portano al collo il fular che denota l'appartenenza ad uno stile di vita che è quello del tempo donato del cuore aperto di una città che offre un servizio silente e utile a chi soffre Dove ci sono ospedali ci siamo noi Indubbiamente il personale medico, paramedico fanno il loro lavoro le medicine sono importanti però è importante un sorriso, è importante una parola è importante un abbraccio, una carezza che risolleva il malato e noi cerchiamo di invondere speranza a volte quando speranza neanche c'è Accanto all'associazione ci sono i medici sociale e sanitario lavorano sempre di più a stretto contatto ma anche il CSV, il centro servizi per il volontariato della provincia di Cosenza che ha censito nel 2018 l'esercito e non è un modo di dire dei volontari in corsia All'annunziata se ne contano 766 che restano in reparto 850 ore la settimana in particolare a svolgere questo servizio è l'81% delle donne il 19% degli uomini l'età media è di 44 anni i degenti incontrati settimanalmente sono 1500 in ospedale si entra dopo una specifica formazione Occorrono anche le competenze cioè occorre acquisire delle abilità delle competenze che oggi sono necessarie proprio per servire ancora meglio questa persona sofferente si punta molto alla formazione cioè a fare in modo che queste persone possano seguire dei percorsi sempre più qualificanti E il presidente del CSV constatati i numeri a lanciare l'idea di un appuntamento annuale come gli stati generali del volontariato ospedaliero al fine di confrontarsi sui risultati raggiunti e progettare le azioni future Sarà sperimentato in Calabria un nuovo farmaco contro il tumore siglato tra l'Università di Siena e l'associazione Arco di Reggio Calabria un accordo per proseguire la ricerca è la prima volta che un'associazione di familiari di pazienti oncologici contribuisce a finanziare un brevetto Sentiamo Francesco Provenzano lei è presidente dell'associazione Arco l'associazione Uniti Calabria Oncologia a Siena un'importante firma la convenzione per avviare la sperimentazione la fase 2 della sperimentazione di un vaccino antitumorale qui in Calabria L'unica associazione che fa una cosa del genere è un'opzione che noi abbiamo preso firmando ieri un accordo con il rettore di Siena per due anni per mantenere questo brevetto ideato e fatto da un dottore Correale e dalla professoressa Maria Grazia Cusi che era all'epoca a Siena con la direzione del professore Pirto questa ricerca verrà fatta in Calabria quindi in questo periodo farla in Calabria è un onore per la nostra associazione Quindi nella prima fase della sperimentazione di questo vaccino riguarda il tumore del colon retto è stata avviata questa sperimentazione su circa 52 pazienti In questa seconda fase si amplierà la platea? Certo si amplierà la platea sarà sperimentato su un numero di pazienti ancora più elevato e quindi questo permetterà sicuramente di avere risultati più certi e a dire degli inventori del dottore Correale della professoressa Cusi darà sicuramente risultati come dicevo prima certi e quasi sicuri in molti casi c'è la regressione della patologia La Calabria protagonista alla Fiera Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè in corso di svolgimento a Rimini Calabria protagonista al Quarantesimo Salone Internazionale di Rimini Gelateria, Pasticceria, Pianificazioni Artigianali e Caffè una rassegna straordinaria dedicata esclusivamente ai professionisti che anticipa tendenze e innovazioni delle cinque filiere in esposizione nei 129 mila metri quadri di stand e degustazioni la migliore offerta internazionale in quanto a materie prime ingredienti, tecnologie e attrezzature arredamento e servizi un vero e proprio show che premia le eccellenze mondiali nel campo dei cosiddetti dessert visto che fra i must non c'è solo il gusto soggelato ma anche la pasticceria dal 19 al 23 gennaio il SIGEP è un appuntamento irrinunciabile con un'edizione ricchissima e con un programma di eventi dedicati alla pasticceria e maestri gelatieri di straordinario livello un'importante occasione per far emergere i giovani talenti nazionali con un occhio soprattutto alla valorizzazione delle materie prime racchiude praticamente le eccellenze dei gelatieri italiani in tutto il territorio il nostro scopo è andare a valorizzare le materie prime dei nostri territori e soprattutto andare a valorizzare il gelatiere che ha l'occasione con queste manifestazioni come il SICEP di andare a uscire dal proprio laboratorio e mettersi in mostra in tutto il mondo ovviamente tramite questi grandi palcoscenici un percorso sensoriale per permettere la degustazione delle prelibatezze della nostra Calabria dal caffè al gelato passando anche per i dolci un successo che anche tramite questo festival mira la promozione delle eccellenze del nostro territorio da Reggio Calabria fino a Santa Maria del Cedro e alla sensibilizzazione del cliente indirizzandolo al consumo di dolci e gelati artigianali e di qualità applauso quindi agli organizzatori di eventi simili che con grande e lungimiranza hanno fortemente voluto e realizzato una manifestazione di rilevanza nazionale destinata ad essere un volano per l'intera Calabria e adesso le previsioni del tempo alla bassa pressione al suolo di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate oggi la ritroviamo sul centro Italia convogliando venti da ovest capaci di provocare moderato maltempo in particolare sui versanti tirrenici della nostra regione nella giornata di mercoledì tale bassa pressione tenderà ad allontanarsi sulla nostra regione quindi si vivrà una fase di tregua in attesa di un nuovo peggioramento probabilmente intenso che dovrebbe interessarci tra giovedì e venerdì passiamo alle previsioni in dettaglio domani sino al mattino precipitazioni risidue ma solo sui versanti tirrenici e zone interne del Cosentino nevose oltre gli 800-900 metri a seguire attenuazione di ogni fenomeno con cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte ovunque temperature minime in lieve diminuzione passiamo al comportamento di mari e venti domani venti meridionali di intensità generalmente debole mari inizialmente molto mosso il tirreno ma con tendenza a divenire mosso nel corso della giornata poco mosso lo ionio per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina facebook Meteo in Calabria su cui vi invito ad apporre il vostro che mi piace ed è tutto grazie per l'attenzione e buona serata